I dati parlano abbastanza chiaro. In Alto Adige Forza Italia è uscita dalle elezioni europee con il 4,7% dei voti, ossia 8 punti percentuali in meno di 5 anni fa quando si presentò con il simbolo del PDL e dunque con altre forze di centrodestra. E' bene sottolineare che comunque domenica Fratelli d'Italia e il nuovo centrodestra di Alfano hanno raccolto complessivamente il 2,3% dei consensi, quindi comunque i conti non tornano. Limitandosi alla sola città di Bolzano, da sempre roccaforte del centrodestra, il partito di Berlusconi è al 10,3%, 5 anni fa il PDL era al 30,5%. In Casa Forza Italia tutti sono convinti che la debacle sia frutto della limitata campagna elettorale fatta da Silvio Berlusconi, costretto a ridurre le uscite a causa dei suoi guai giudiziari. Esistono però ragioni legate al piano locale e c'è chi chiede la testa del coordinatore regionale Enrico Lillo, che esclude di voler rassegnare le dimissioni. La deputata Michela Biancofiore ha definito inadeguati gli attuali vertici regionali del partito, difendendo la dirigenza provinciale a lei più vicina. In adeguati o no, questo è un giudizio che dà l'Onorevole e posso capirlo perché è condivisibile in parte. Deve partire adesso un processo interno di rinnovamento coinvolgendo delle forze nuove, perché ovviamente l'abbiamo promesso alle persone, invece così non è stato. Abbiamo pagato aspramente questa, chiamarla bugia è troppo, ma abbiamo promesso un rinnovamento che invece in senso pratico non c'è stato qui da noi. Enrico Lillo via Facebook spiega che il risultato elettorale di Forza Italia all'europea è stato migliore di quello ottenuto nel 2013 sotto la gestione Biancofiore Bertoldi. Il punto è che Forza Italia rimane sospesa tra un serio rinnovamento ed un ritorno alle leadership del passato. Io sono tra le persone che dice che non possiamo pensare a riunificare il mondo del centro-destra, cosa che è necessaria, se poi però lasciamo da parte subito alcune persone. Quindi secondo me dovremmo trovare sistema per coinvolgere tutti gli attori che ci sono. Sento parlare di passi indietro da parte dei big del passato, io sono tra quelli che dicono passi indietro sì, ma con le mani avanti, perché in qualche modo dobbiamo unificare e non si può unificare escludendo.